Cominciamo pure con le domande, lascio la parola al mister. Buongiorno mister, Enrico Zambruno di Ventus TV, le chiedo in che momento della stagione arriva la parita di domani a Marassi e come la deve affrontare la sua squadra questa gara? In che momento arriva? Un momento decisivo della stagione perché siamo verso la fine della stagione anche se mancano ancora due mesi, aprile e maggio, perché ora tra una settimana ci sarà la sosta però prima di questa sosta c'è una settimana intensa, bella, speriamo che sia molto divertente e molto piacevole perché abbiamo domani la Sampdoria che comunque con Gianpaolo in casa ha fatto due partite di cui due vittorie, sei gol fatti e zero subiti. Quindi già questo la dice lunga sulla partita di domani. È una squadra che vedendo dati il 25% di gol che ha fatto l'ha fatto nel primo quarto d'ora quindi sicuramente domani bisogna essere pronti come approccio perché troveremo una squadra che ci aggredirà in uno stadio che sarà quasi pieno, loro hanno bisogno di punti per la salvezza e noi abbiamo bisogno di punti per arrivare nelle prime quattro e quindi bisogna farsi trovare pronti. Buongiorno mister, Giovanni Albanese Sport Italia. Giovedì abbiamo visto il tridente con Ken insieme a Blaovic e Murata. Le chiedo se è un'ipotesi spendibile per domani, grazie. Devo ancora decidere perché comunque qualcuno ha un po' bisogno di riposare fortunatamente stamattina quando segnavo con i cerchi convocati a un certo punto siamo troppi oggi, bisogna accenare qualcuno perché comunque sono rientrati, è rientrato De Ciglia, è rientrato Alex che sta bene il quadrato è a posto e direi quindi già tre l'abbiamo passato. Domenica, se tutto va bene, Chiellini dovrebbe essere già con la squadra e quindi speriamo di averla a disposizione per mercoledì, Bernardeschi sarà comunque a disposizione perché domani è squalificato. Quando si sta per arrivare alla Champions è come il miele, arrivano tutti. Quindi vediamo le cose, il positivo che è la miglior cosa. Buongiorno Fabiana della Valle, Gazzetta dello Sporto. Io volevo chiederti invece se per Danilo può esserci un turno di riposo e come stanno appunto De Ciglio e Alexandro se possono essere già pronti per giocare dell'inizio, magari uno dei due. Danilo assolutamente no, domani giocherà. Tra l'altro credo che domani per Danilo sia la centesima partita della Juventus e quindi vi do che le faccia fare. Le Atti 2, De Ciglio si è messa a disposizione, con questi problemini al ginocchio però sta decisamente meglio e Alexandro sta bene però non è ancora decisa. Buongiorno Massimo Lanari, Rai TGR Piemonte. Premesso che ai fini pratici non cambia nulla, però dal punto di vista psicologico un obiettivo per quest'anno è il terzo posto appunto. Può essere un obiettivo? Grazie. L'obiettivo nostro è entrare nei primi quattro, che sia il quarto, il terzo o il secondo non cambia niente. L'importante è entrare nei primi quattro e in questo momento qui stiamo lavorando per questo. Bisogna continuare perché è ancora lunga, ci sono tanti punti, veniamo da tante partite importanti. Un passetto alla volta, domani abbiamo la Sampdoria dove bisogna fare una partita pesante, una partita di grande responsabilità, una partita dove bisogna uscire con il risultato positivo per continuare la striscia positiva e soprattutto per continuare a consolidare quello che è il quarto posto. Salve mister, Giorgio Musto di Calciomercato.it. Le chiedo quali sono le condizioni di Bala e se può recuperare per la Champions e come lo ha visto in questi giorni. Grazie. Meglio Paolo, tra l'altro anche lui è uno che potrebbe venire a disposizione per la Champions, però queste sono cose che, come lo stesso Bonucci, quindi vediamo tanto, ora dobbiamo pensare alla partita di domani con la Sampdoria. Domenica, quando ci ritroveremo, faremo le valutazioni a 360 gradi, tanto poi abbiamo lunedì e martedì perché dovremo giocare mercoledì, credo. Quindi abbiamo tre giorni. Buongiorno, mister Nicola Gallo, Mediapason. Volevo tornare anch'io sul fatto di chi non c'era. Abbiamo fatto il quadro compieto, allora le chiedo mentalmente se la squadra lanciata in rimonta come si trova e perché poi si arriva ad affrontare una gara che negli ultimi anni è stato un po' uno step che si è faticato a superare. Se invece quest'anno c'è una squadra che va sull'onda con un po' dell'entusiasmo di questa lunga serie di risultati positivi. Vincere a Genova è sempre complicato, sia col Genova che con la Sampdoria. Perché comunque l'ambiente, i tifosi, loro in casa... La Sampdoria in casa è un'altra squadra, lo dimostrano i risultati. Non è che le fate. E quindi domani ci dobbiamo aspettare una partita difficile e complicata ma l'importante è stare dentro la partita. Poi vediamo, bisogna essere bravi e soprattutto avere il carattere, la voglia, l'orgoglio di portare a casa il risultato anche domani. Buongiorno Giovanni, guarda la Sky Sport e volevo chiedere in generale di Vlaovic che ormai è un po' che è qui, ha giocato sempre. Le chiedo se si aspettava questa tenuta mentale da parte di questo ragazzo che appunto sta giocando ogni tre giorni insomma non era abituato a giocare in Champions eccetera e se le chiedo insomma se c'è in progetto prima o poi di farlo rifiatare se non è domani, se è con la Salernitana eccetera. Allora per quanto riguarda Vlaovic sono contento, non era semplice arrivare alla Juventus e giocare nei tre giorni perché comunque i carichi sono diversi i carichi fisici ma soprattutto i carichi mentali perché comunque devi giocare sempre per vincere quindi devi avere un'attenzione diversa quando dico che comunque la palla della Juventus è più pesante perché quando giochi per vincere ogni palla ti può far vincere o perdere è quello che fa la differenza e Juventus sta lavorando bene deve come tutti migliorare ci ho parlato anche ieri gli ho detto che deve essere più pulito nel gioco e credo che sia deve essere un obiettivo per lui principale quello per sprecare meno energie fisiche per fare meno lotta per alzare il suo livello di qualità tecnica che ne ha già tanta però il ragazzo che è arrivato ora dalla Fiorentina vi ha dato un pochino di tempo per arrivare a questi livelli però deve essere molto contento perché poi tra l'altro è un ragazzo di cuore è un ragazzo che si sacrifica per la squadra diciamo che in questo momento c'è un buon spirito in generale però siccome il calcio si gioca su un filo perché l'altra sera una partita meravigliosa come quella di Real Madrid di Paris Saint Germain quando tutto sembrava liscio nel calcio c'è l'imprevisto e quindi la squadra deve essere brava a gestire l'imprevisto perché altrimenti dopo scivoli e ti fai male e quindi non è che perché abbiamo fatto i ragazzi hanno fatto delle partite e i risultati importanti è finita perché in questo momento non siamo né in Champions League non siamo né in quarti finali di Champions non abbiamo vinto niente non abbiamo fatto niente i conti si tirano la riga e si fanno speriamo il 28 di maggio se lo dobbiamo fare una settimana prima vediamo domani devo decidere Buongiorno mister Fabio Riva del Tutto Sport avevo in mente una domanda adesso l'ultima mi hanno fatto venire una seconda non so se poi posso fare la seconda intanto le faccio la prima nelle ultime settimane le competitor le avversarie della Juventus per i primi posti stanno mi sembra dimostrando un po' di nervosismo tante lamentele tante polemiche sugli arbitri la Juventus direi di no e perché voi siete più tranquilli e sereni o perché gli arbitraggi sono diversi soprattutto se percepisce un nervosismo in particolare da chi è davanti o poco dietro di voi grazie ma no non percepisco anche perché per percepire bisogna stare all'interno dell'ambiente io posso solamente dire che la Juventus in questo momento qui deve pensare bisogna chiacchierare poco e fare tanto perché c'è ancora da fare molto quindi bisogna stare zitti più zitti si sta e meglio è quelle davanti sono davanti e davanti ci rimarranno perché hanno talmente tanto vantaggio e quindi hanno la possibilità di fare tanti punti dove noi non possiamo arrivare quindi noi dobbiamo pensare solamente a noi stessi in questo momento l'obiettivo è il quarto posto l'obiettivo di intanto passare il turno di Champions l'obiettivo immediato è quello di battere la Sampdoria l'obiettivo immediato è quello di arrivare al quarto di finale abbiamo una settimana poi dobbiamo recuperare un po' di energie dopo la sosta credo almeno succeda qualcosa l'avremo tutti a disposizione per il rush finale l'ultimo due mesi Salve mister Gianno Codino alla Stampa io volevo fare una domanda che va oltre il dibale di campo che lei ci ha detto che sta meglio voglio chiedere a livello mentale come sta dopo quel che è successo e anche chiederle un commento oggi Tardelli sulla Stampa scrive ma perché si umilia così dibala ecco dov'è che si sta sbagliando secondo lei grazie mille allora innanzitutto dare dei giudizi su quello che dice uno e quello che dice l'altro non è non è di mia competenza e soprattutto dire che Di Bala ha bisogno di ha bisogno di Paolo è un uomo ormai di 29 anni un professionista che è una situazione dove come altri ci ha da discutere il suo rinnovo di contratto quindi non ha bisogno di nessuno come tanti professionisti come è successo si gioca si va in campo e si fa quello che si deve fare assolutamente ma questo vale per Di Bala vale per tutti per Paolo quindi Paolo lo vedo sereno e tranquillo ma è un'offesa anche verso di lui dire Paolo ha bisogno uno di 29 anni ha bisogno di chi? lui in questo momento qui deve ritrovare nella buona condizione lo sta facendo si sta impegnando molto per ritornare al meglio la condizione soprattutto per mettersi a disposizione perché io ho bisogno di Paolo la squadra ha bisogno comunque perché è un giocatore tecnico un giocatore che può risolvere le palle sulle palle inattive un giocatore che ci dà qualità e per il rush finale della stagione ho bisogno di tutti quindi speriamo di recuperarli tutti tra cui Paolo e speriamo di recuperarlo per mercoledì Buongiorno Ministro Filippo un sierco di aerosport tornavo su Quadrado ho detto che è recuperato ma può essere titolare o dopo i problemi in settimana meglio preservarlo grazie Quadrado o gioca Quadrado o gioca K da lì non si scappa non vedo altre domande grazie grazie buona giornata grazie grazie